Tosca è un'opera come personaggio, eroina, è un carattere forte, profondo, molto vero, naturale. È un eroe quasi per caso, perché è Angelotti che lo porta a diventare un eroe, lui ha dei valori, ha dei pensieri, è un volterriano, ha idee contrarie a questa oppressione dello Stato Pontificio. Abbiamo la parte male, che l'ogitamente sta molto presente durante tutto il espectacolo, ma è una parte anche molto humana, c'è un ser vulnerable, la sua obsesione per Tosca. È totalmente obsesionato, è che lo dice, Tosca mi fai dimenticare, Dio, Tosca mi haces olvidar a Dio. Tosca mi fa il vero, Dio, Tosca mi fa il vero, Dio, Tosca mi fa il vero, Dio. Musica molto forte, Puccini è stato proprio un grande filosofo di anima di donna innamorata. Il lavoro di Paco e di Salvador è al passare la parola, al sentito comun, al sentito humano, di uno di cada uno dei personaggi, è come una specie di giocatore di ajedrez, è già vio le fiche dove hanno bisogno, e ogni una delle possibilità. È, basicamente, interagire con i suoi aiutanti solo per dire, te lo dice. Le conti d'armonia e le luci alle stelle hanno in comune l'amore. L'inizio è un amore simbolico, cioè accomuna le due bellezze, della bellezza della Tavanti con la bellezza di Floia Tosca. Le luci alle stelle è questo amore che ormai si sta perdendo, perché si sa che si sta andando verso la morte. E c'è un amore folle per questa donna, che è stata anche lei una donna così innamorata di lui, di andare a morire anche lei per lui. E c'è un amore, anche lei una donna così innamorata di lei. Grazie a tutti.